Più il tempo trascorre facendo invecchiare i grandi nomi dell'arte della nostra epoca fino al punto di dimenticarne i contorni umani e la letteratura fiorita vintorno, più le loro opere si avvicinano a noi in tutta la più completa freschezza e originalità. Con queste parole Giuliano Matteucci, grande esperto d'arte e fondatore del Centro Matteucci per l'Arte Moderna di Viareggio, ha introdotto stamani illustri ospiti per una visita guidata alla straordinaria mostra Silvestro Lega, storia di un'anima. C'erano i senatori Andrea Marcucci, presidente della Commissione Cultura del Senato, Emanuela Granaiola, il prefetto di Lucca Giovanna Cagliostro, il sindaco di Viareggio del Ghingero, il capogruppo del Partito Democratico Luca Poletti e il presidente della Fondazione Puccini Alberto Veronesi. Al termine della visita, affascinati dalla bellezza delle opere, tutti quanti hanno espresso grande entusiasmo per l'evento culturale. Ho trovato una mostra meravigliosa, ben costruita in questa fondazione che dà lustro a Viareggio e dà lustro a tutto il nostro territorio. Sono molto felice, ringrazio il sindaco per avermi accompagnato, la senatrice Granaiola, soprattutto il presidente della Fondazione. Veramente un meraviglioso evento che abbiamo avuto l'onore di avere qui a Viareggio. È una mostra bellissima che consiglio a tutti di venire a vedere. Io avevo visto già a Lucca una mostra sui macchiaioli, però devo dire che questa, in un certo senso, va vista come una continuazione. La Fondazione Matteucci ha il merito di parlare di cultura, di parlare d'arte ed è necessario che l'arte e la cultura in qualche modo ripermini il percorso di ricostruzione della città. Penso che ci tornerò per riguardarmela ancora più calma. Faccio i miei complimenti agli organizzatori perché è veramente un bellissimo risultato.